Kim Jong-un ha recentemente subito un intervento chirurgico al cuore, si legge oggi sul sito sudcoreano Daily NK. Il messaggio è chiaro, è solo un fatto di cronaca ciò che è stato pubblicato ieri sul leader del regime nordcoreano. Ma la notizia dell'operazione a cui Kim Jong-un è stato sottoposto il 12 aprile scorso all'ospedale di Yangsan ha già scatenato dubbi sulla salute del dittatore nordcoreano. L'ultima apparizione pubblica risale all'11 aprile scorso, giorno prima dell'operazione al cuore. La televisione di Stato ha infatti diffuso immagini sulla riunione del Politburo del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori presieduto dal 36enne dittatore al comando dal 2011, erede della dinastia Kim che tiene in pugno la Corea del Nord dal 1948. Ad alimentare i sospetti sulle condizioni di salute di Kim Jong-un è stata la sua assenza il 15 aprile scorso alla festa nazionale più importante durante la quale si celebra il compleanno del nonno Kim Il-sung, ritenuto il fondatore della nazione. All'omaggio floreale i presenti hanno partecipato con le mascherine, segno questo che l'emergenza coronavirus sta preoccupando anche la Corea del Nord. Il 14 aprile, vigilia dell'evento, comunque tutto il mondo ha parlato del dittatore per l'ennesima provocazione di missili lanciati nell'oceano pacifico. Cina e Corea del Sud oggi hanno dichiarato che non hanno alcuna notizia sulla salute di Kim Jong-un, ma già si parla di chi potrebbe essere il suo erede. Sono in molti a pensare che lo scettro possa passare alla sorella minore Kim Jo-yong, tanto per rimanere in famiglia.